Io sono innamorata dell'esperienza sudafricana, quindi ve lo dico in anticipo, faccio subito la mia dichiarazione d'amore per questa storia, perché è una storia appassionante, avvincente, e la incontreremo facendo una prima tappa di incontro con il tema che sta nel sottotitolo che è stato dato a questo nostro pomeriggio, la giustizia riparativa. Però vorrei ricordare che questo 2018 è un anno particolare per i temi di cui ci occupiamo oggi pomeriggio, è un anno di anniversari non tutti lieti. Uno è il centenario di Nelson Mandela, che è nato il 18 luglio 1918, e quindi quest'anno ricorrono i cento anni dalla sua nascita, e se voi andate sui siti istituzionali sudafricani troverete questo logo, questi cento con il simbolo un po' della lotta anti-apartheid di Mandela, e questa richiesta, be the legacy, siate quelli che portano avanti l'eredità di Mandela. Cioè prendete il testimone, raccogliete anche voi quello che ci è stato lasciato in eredità da questa figura profetica. Ma quest'anno è purtroppo, purtroppo, l'anniversario anche delle leggi razziali, o meglio, delle leggi razziste. Le leggi razziali, razziste, vengono in Italia approvate nel 1938, e sono delle, diciamo, un'espressione tremenda di come il diritto non significhi necessariamente giustizia. C'è una differenza, purtroppo, tra la legalità e la giustizia, le quali possono non coincidere. E quindi, per esempio, è importante che i cittadini di uno Stato democratico, che vogliono una società democratica, non pensino alla legge come a un comando a cui ubbidire, ma si prodighino, si impegnino tutti a costruire delle leggi che non siano solo legalmente corrette, quindi che seguano le procedure previste per la loro emanazione, ma che siano anche sostanzialmente giuste. Le leggi razziali, razziste, erano delle leggi che dal punto di vista formale non avevano dei vizi di forma, di procedura, ma avevano dei contenuti criminosi. Tant'è vero che dopo questa esperienza, che si lega alla violenza che ha conosciuto l'avanzatissima Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, con la Shoah, con la dittatura fascista e nazista, il totalitarismo nazista, si è sentito e si è avvertito il bisogno di sancire che certe condotte, anche ove previste dagli ordinamenti giuridici di singoli paesi, come legali, sono criminose. Nel 1948 viene approvata la Convenzione sul Genocidio e da lì inizia un lungo itinerario che culmina, per certi versi, nel 1998, un altro 8 anniversario, l'istituzione della Corte Penale Internazionale Permanente, che ha sede all'AIA, e nel cui statuto sono indicati i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale Permanente, appunto il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, tra cui c'è l'apartheid, i crimini di guerra e i crimini di aggressione. E viene detto che queste condotte sono ovunque e da qui in avanti per sempre criminose, anche se comandate da un'autorità apparentemente legittima. E quindi, per esempio, non si può più utilizzare la difesa che aveva usato, per esempio, a Eichmann nel processo a Gerusalemme, ma molti ancora oggi, dei perpetratori di questi crimini, io ho solo eseguito gli ordini. L'esecuzione di un ordine criminoso è un reato tal quale. Il 48, oltre che essere l'anno della Convenzione sul Genocidio, è anche l'anno in cui il 10 dicembre, e quindi quasi quasi un anniversario perfetto, oggi è il 3 dicembre, quindi da qui a una settimana saranno esattamente i 70 anni, i popoli riuniti nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che sancisce l'inalienabilità e l'inviolabilità dei diritti di qualunque essere umano, uomo o donna, bianco o nero. Diritto alla vita, il diritto alla sicurezza, il diritto alla libera espressione del pensiero, il diritto a riunirsi pacificalmente, ad associarsi in associazioni pacifiche, la libertà di movimento, la libertà di stabilimento, il diritto alla cittadinanza. E si è avvertito questo bisogno di levare una voce che parli dei diritti umani in termini incondizionati e universali, in ogni dove, dovunque, sempre. A scrivere questa raccomandazione ci sono persone come Eleanor Roosevelt, che era la first lady, la moglie di Franklin Delano Roosevelt, ma che era una tv donna, bianca, madonna. In Italia le donne votavano da due anni, nel 1948. E lei presiedeva la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, che è quella che ha approvato il testo di questa dichiarazione universale. E insieme a lei l'estensore materiale di questo giurista, sopraffine, René Cassin, francese ebreo. Quindi interessante, una donna e un ebreo, che sono all'origine materiale, insieme ad altri, di questo testo con una vocazione universale. Tutti nasciamo liberi ed uguali in pari dignità. Scopriremo con l'esperienza del Sudafrica che questa idea della pari dignità si spinge fino al confine massimo. E cioè, non solo che la pari dignità c'è tra uomini e donne, tra bianchi e neri, ma che la pari dignità c'è anche tra gli assassini e le vittime. Che non vuol dire che gli assassini sono giustificati, approvati, ma che proprio per disapprovare la violenza bisogna essere non violenti, per primi, anche nei confronti degli aggressori. e il motto dei 70 anni della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è Stand up for human rights. Alzatevi in piedi per i diritti umani, datevi da fare per i diritti umani. Altro anniversario quest'anno, 50 anni dalla morte di Martin Luther King. Martin Luther King, vittima di reato, perché è stato ucciso Martin Luther King. Quella in basso è la sua ultima fotografia da vivo, perché è quella balconata. Sarebbe stato raggiunto da un proiettile che l'avrebbe colpito alla testa e l'avrebbe ucciso. Mentre la foto sopra nel momento culmine quando pronuncia il famoso discorso We have a dream, I have a dream. Io ho un sogno. Che un domani i nostri figli, bianchi e neri, potranno stare insieme e vivere insieme. E quindi, come dice questa locandina per il cinquantenario della scomparsa di Martin Luther King, è 50 anni. che abbiamo un sogno. Quindi è un anno un po' particolare per parlare dell'esperienza del Sudafrica, del superamento dell'apartheid, dell'uguaglianza. È un anno particolarmente interessante con questo 2018 che ci mette di fronte a tanti anniversari così significativi. Ma avevo detto che la prima tappa di avvicinamento all'incontro, a questo piccolo viaggio che facciamo in parte immaginario, in parte esperienziale, verso il Sudafrica della democrazia, parte da questo tema della giustizia riparativa perché gli organizzatori li ringraziano. Ho scelto un titolo molto efficace, oltre l'oppressione, e con questo sottotitolo la giustizia riparativa di Nelson Mandela. Allora, che cos'è la giustizia riparativa? È un nuovo modo di intendere la giustizia, che non ho inventato assolutamente io, anzi, che ha forse radici antichissime, ci sono pratiche che si fanno risalire anche a delle popolazioni native, che quindi, come dire, possono essere presenti nelle culture antiche di tanti luoghi del mondo, ma è un nuovo modello di giustizia che adesso è promosso dai massimi organismi internazionali che lo definiscono, strumenti che sono delle raccomandazioni, le vediamo brevemente, non spaventatevi, non sarà una cosa noiosissima di testi giuridici, vediamo solo le definizioni contenute nei principali strumenti di tre importanti organismi internazionali o addirittura uno anche sovranazionale per la nostra Europa, le Nazioni Unite, l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, che tra l'altro ha emanato una raccomandazione sulla giustizia riparativa all'inizio di ottobre, quindi recentissima. Per le Nazioni Unite, non so se riuscite a vedere abbastanza distintamente, le Nazioni Unite hanno emanato una raccomandazione nel 2002, il Consiglio Economico e Sociale, che contiene i principi base sull'uso della giustizia riparativa in ambito penale. Vedremo che la giustizia riparativa è un metodo, è un metodo anche molto semplice, per fare giustizia riparativa non occorrono soldi, non occorrono infrastrutture, non occorrono, noi potremmo qui per terra metterci seduti per terra e fare qui seduta stante un programma di giustizia riparativa senza un soldo. E' una cosa molto semplice e che qui viene declinata nell'ambito grave della criminalità, cioè in ambito penale, quando è commesso un reato, ma un metodo che potrebbe essere utilizzato benissimo anche a scuola. E magari poi possiamo, nel dibattito, se ci sono delle domande, possiamo provare a pensare come fare giustizia riparativa a scuola, perché anche il mondo della scuola non è un mondo senza ingiustizie e anzi, se c'è una delle esperienze universali che tutti sperimentano nella loro vita, è l'esperienza dell'ingiustizia. Tanto è vero che, per esempio, c'è quel libro molto interessante del Cardinal Martini, di Gustavo Zagrebelsky, un uomo di fede e un uomo di diritto che non ha fede, si intitola La domanda di giustizia e si apre così. nessuno sa cos'è la giustizia, ci sono filosofi, sociologi, teologi, tutti che hanno scritto Fiumi di inchiostro e nessuno è riuscito a mettere il punto fermo, finale, nessuno sa bene cos'è la giustizia, ma tutti sappiamo cosa sono le ingiustizie, che guarda caso sono sempre anche al plurale. E anche un bambino molto piccolo non ha bisogno di conoscere una teoria di aver letto un libro per sapere cos'è un'ingiustizia, perché quando facciamo l'esperienza dell'ingiustizia ce ne accorgiamo, ma non perché l'abbiamo studiato, c'è qualche cosa di molto profondo, c'è come un sapere che ci precede, che riguarda proprio l'antropologia prima ancora che la filosofia o la sociologia, perché l'esperienza dell'ingiustizia punge e ci accorgiamo quando la proviamo senza che qualcuno ci abbia insegnato cos'è la giustizia e quindi cos'è la mancanza della giustizia. Allora, la giustizia riparativa in questo documento delle Nazioni Unite in ambito penale ci dice che la giustizia riparativa è qualsiasi procedimento, percorso nel quale la vittima e il colpevole, il reo, se opportuno qualunque altro componente della società che si sente ileso da un reato, quindi la vittima, il colpevole e i membri della comunità partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato con l'aiuto di un terzo. Se avesse il pennarello o l'evidenziatore, quali parole sottolineereste di questa definizione? Quali sono le parole più importanti di questa definizione? Prego. Sì, sì, sì. Partecipare attivamente insieme. Perché la colpisce questa? Giustissimo, dice una bravissima studentessa qui che normalmente la giustizia penale, lo dico per chi è in streaming che non ha avuto il piacere di ascoltarla direttamente, la giustizia penale cosa fa? Il reo e la vittima li separa e non solo li separa nel processo perché le parti del processo penale non sono il reo e la vittima ma sono la pubblica accusa e l'accusato verso il quale c'è un dito puntato dell'accusa ma soprattutto li separa quello che viene dopo il processo se c'è una condanna cioè la giustizia intesa come punizione e come pena che toglie un diritto fondamentale quello della libertà e dunque una giustizia intesa come ritorsione siccome è sbagliato adesso paghi quante volte lo sentiamo dire devono pagare è una giustizia della ritorsione quindi attenzione non è giustizia mimetica una giustizia che vuol fare al colpevole quello che il colpevole ha fatto alla vittima solo che questa mimesi questa somiglianza la chiamiamo giustizia invece qui no è verissimo c'è questa cosa strana anche un po' disturbante forse un po' scandalosa che tra due tra cui c'è stato un reato e qui non è detto un reato lieve qualunque reato e vedremo che Sudafrica fa questa cosa con il crimine di apartheid che vuol dire sparizioni torture uccisioni sequestri violenze sessuali eccetera 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 quindi cose enormi tra due tra cui c'è stato un reato c'è la proposta di stare insieme di incontrarsi parlarsi partecipare in modo attivo al domani è proprio l'opposto della giustizia a cui siamo abituati per arrivare dove sono sempre le Nazioni Unite che ci dicono che l'approdo di questo metodo partecipare insieme attivamente poi vedremo in modo libero e volontario l'approdo è un accordo raggiunto con quel metodo di incontrarsi dialogare rimboccarsi le maniche guardare al futuro a come continuare a stare insieme nonostante quello che è successo che non vuol dire chiedere a due persone di volersi bene di perdonarsi di riconciliarsi perché a volte questo può essere impossibile basta tra virgolette dico basta perché non è una cosa da ragazzi riuscire a convivere senza farsi del male di nuovo allora questo accordo è il risultato di quel percorso e vedete che questo risultato riparativo può includere tante cose per esempio la riparazione che tanto più il reato sarà grave tanto più sarà una riparazione solo simbolica se uno è morto non si resuscita se ti ho rubato lo zaino te lo posso restituire ma se ti ho amputato una gamba non te la posso far ricrescere quindi coi fatti bisogna sempre fare i conti che non possono essere cambiati può cambiare il senso di quei fatti e si possono fare dei gesti per continuare a vivere un futuro anche dopo dei fatti terribili quindi la riparazione le restituzioni dove sono possibili le attività socialmente utili ma è solo un esempio esemplificativo è appunto un esempio un elenco esemplificativo perché un risultato riparativo è qualunque cosa che serva per corrispondere ai bisogni individuali e collettivi alla responsabilità di tutte le parti in modo da reintegrare la vittima e il colpevole se qualcuno vi ha insultato vi ha preso in giro la cosa magari importante per voi non è che vi dà dei soldi a titolo di risarcimento del danno potrebbe anche non essere importante per voi che quella persona venga punita magari per voi è importante che quella persona vi chieda scusa ma non perché lo chiede l'insegnante o i genitori o la legge ma perché ha capito come si sta male quando si viene derisi e che avendolo capito vi chieda delle scuse che vi comunicano e solo voi che siete stati feriti capite che lo comunicano che non lo farà più questa è una riparazione che corrisponde al bisogno reale di quella persona ferita da un'ingiustizia l'unione europea ha una direttiva chi fa diritto sa magari che le direttive sono tra le fonti del diritto dell'unione europea abbiamo una direttiva in materia di vittime di reato sulle norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato in questa direttiva che è del 2002 ed è entrata in vigore è stata trasposta e recepita in Italia nel 2015 si parla di giustizia riparativa che viene definita in modo molto simile alla definizione delle Nazioni Unite giustizia riparativa qui c'è solo l'italiano perché è la traduzione che è comparsa sulla gazzetta ufficiale e qualsiasi procedimento che permetta alla vittima o all'autore del reato di partecipare attivamente se vi acconsentono liberamente alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale è interessante che la direttiva sulle vittime parli di giustizia riparativa ed è interessante perché se ci pensate la giustizia a cui siamo abituati quella che è stata descritta dall'intervento anche della vostra compagna poco fa cioè la giustizia che separa e punisce è una giustizia reocentrica non so se ci avete mai pensato perché anche i giornali politici ci dicono c'è il reato trovato il colpevole adesso lo puniamo giustizia è fatta deve pagare tutto a posto ma non funzionano così le cose per esempio in un sistema fatto così le vittime non sono mai importanti perché per fare giustizia c'è bisogno di qualcuno da punire proviamo a tradurre sempre nella nostra vita quotidiana in classe se l'insegnante si tra virgolette limita a sanzionare il colpevole potrebbe dimenticarsi della persona offesa e ferita che magari può avere difficoltà a tornare a scuola il giorno dopo perché anche se è la vittima e cioè quello che ha subito l'offesa si vergogna o magari ha bisogno come dire di essere accompagnato di essere sostenuto di sentire una solidarietà sociale nella classe quello che Agnese Moro chiama la tenerezza sociale la non solitudine un sistema punitivo non guarda le vittime sapete che se muore il reo e dunque non c'è nessuno da punire si estingue il reato per il diritto penale quando muore il reo si estingue il reato quindi l'attentatore kamikaze suicida che nel compiere il reato si uccide estingue il reato ditelo ai sopravvissuti delle ramblas di barcellona se si è estinto qualcosa o ai sopravvissuti delle torri gemelle o ai sopravvissuti di tutte le azioni suicide che avvengono molto più che in europa per esempio in afghanistan in iraq in molti altri luoghi non si estingue niente certo non c'è un reo da punire ma ci sono delle vittime verso cui c'è molto da fare il consiglio d'europa ha emanato una raccomandazione qualche settimana fa è la seconda raccomandazione ce n'era un'altra del 99 era solo sulla mediazione penale questa è sulla giustizia riparativa dove trovate di nuovo una definizione molto simile a quella delle Nazioni Unite di nuovo partecipare insieme attivamente in modo libero aiutati da un terzo quindi la giustizia riparativa propone lo scandalo fecondo di incontrarsi per lavorare sulle necessità in vista di un futuro e di farlo col metodo della democrazia che non sono le sbarre le manette i ferri i blindi la pena di morte e l'iniezione letale l'ergassolo l'ergassolo stativo e tutto questo armamentario di azioni aggressive lo fa usando il metodo della democrazia quando c'è un problema si parla si usa la parola per risolvere i problemi io conosco la giustizia riparativa in modo privilegiato perché sono stata quel terzo quel mediatore insieme ad altri due a Guido Adolfo di incontri che sono andati avanti circa dieci anni chi ha incontrato Giorgio Bazzega in questa scuola Giorgio è uno dei partecipanti a questo percorso di incontri tra vittime e responsabili della lotta armata con riferimento al nostro paese che anche ha conosciuto la violenza e non solo la violenza della dittatura durante la prima parte dello secolo scorso quindi per me la giustizia riparativa non è stata solo una materia di studio e io mi occupo di diritto penale che è il ramo dell'ordinamento che fa uso della forza e quindi è un ramo molto triste che deve essere continuamente vigilato perché può togliere la libertà e la libertà non dovrebbe mai venire tolta e ha avuto la fortuna di conoscere questa giustizia diversa partecipando come terzo come mediatore a questi incontri tra re e vittime e allora do subito la parola a una delle vittime di questo percorso tra vittime e autori di azioni armate per motivazioni politiche negli anni 70-80 nel nostro paese è la figlia di Aldo Moro probabilmente anche quelli molto giovani qui sanno chi è Aldo Moro è stata una figura politica importantissima del nostro paese è stato ministro è stato presidente del consiglio è stata una persona che ha avuto incarichi importantissime ed è un po' quello che per gli italiani è Rabin cioè per noi è molto amato è stato anche odiato fino ad essere ucciso sequestrato per 58 giorni e poi ucciso Agnese nel gruppo dell'incontro ha incontrato le persone che erano in via Fani dove è stata uccisa la scorta di Aldo Moro e dove Aldo Moro è stato quindi sequestrato e che hanno fatto parte dell'organizzazione che poi lo ha ucciso quindi partecipando a questo gruppo Agnese ha incontrato le persone direttamente coinvolte in questo tragico fatto e quando due anni un anno e mezzo fa siamo stati invitati re, vittime, mediatori in Senato a presentare la nostra esperienza ci sono state le solite polemiche i terroristi in Senato eccetera lei ha scritto un articolo alla stampa brevissimo in cui spiega perché si può voler incontrare l'altro così difficile quello che ti ha sequestrato e ucciso il papà perché una persona dovrebbe voler incontrare i responsabili di orrendi omicidi lei dice per me la molla è stata la speranza di avere giustizia il desiderio di uscire dall'orrore dell'infinita e perenne ripetizione degli avvenimenti del passato perché è un passato che non passa mentre incontrare il volto del colpevole può dare un posto a quel passato dietro le spalle e lei dice ecco alcune delle domande a cui vorresti una risposta domande che nel processo non si possono fare perché al processo interessa capire il fatto e giudicarlo alla luce della fattispecie e in un percorso di giustizia ripartiva invece si possono fare e si fanno hai capito cosa hai fatto chi era la persona che hai ucciso hai capito cosa mi hai tolto come hai potuto mettere la sveglia una mattina per andare a uccidere una persona puntare la sveglia andando a dormire sapendo che l'indomani non prendi l'aero per andare in vacanza ma vai a uccidere qualcuno capite che questa cosa della sveglia è un dettaglio ma quanto passa da questo dettaglio quanto dice questo dettaglio quanto chiede questo dettaglio che nessuna pena carceraria potrà mai rivelare come hai potuto fare questo e chi sei tu adesso ascoltare le risposte le domande è quasi sempre molto difficile ma farlo aiuta dice Agnese una persona come me a capire senza scusare a conoscere senza odiare è già moltissimo capire e non odiare le premesse per poter vivere insieme scoprire nel suo caso con sorpresa l'umanità degli altri il dolore sincero per l'irrimediabilità del male compiuto la disponibilità disarmata nei nostri confronti di noi vittime lo spiegare il male fatto senza mai giustificarlo giustificarsi questa è la giustizia riparativa sto sbagliando voglio andare avanti quindi la giustizia riparativa è una giustizia diversa sì perché è una giustizia che non vuole usare gli strumenti aggressivi del colpo restituito del circolo vizioso della violenza per cui se tu mi tiri un pugno io te ne tiro uno e il mio è giustificato dal tuo primo e nei conflitti tra popoli dove le cose sono estremamente complesse non si sa mai che è incominciato per primo e ognuno si sente legittimato a buttare le bombe sugli altri allora gli altri fanno gli attacchi suicidi e allora poi le bombe si moltiplicano e poi arriva e così via e non si finisce mai e chi ci perde? tutti specialmente quelli che perdono i figli le mogli i mariti i compagni gli amici allora una giustizia diversa e guarda caso questa giustizia diversa che non ha la bilancia la spada le manette i ferri le sbarre eccetera è una giustizia che vi rappresento con il logo della Corte Costituzionale del Sudafrica post-apartheid molto significativo hanno fatto un concorso per capire come esprimere la giustizia post-apartheid e hanno scelto un albero sotto cui si riuniscono delle persone che cosa vi comunica questa immagine del massimo organo giudiziario del Sudafrica di cosa vi parla se doveste scegliere una parola per descrivere cosa comunica quel logo ufficiale cosa vi dice lo guardate che sentimento vi viene che cosa vi fa pensare prego inquietudine chi interviene dice che all'inizio comunica inquietudine perché addirittura queste persone potrebbero essere come impiccate all'albero poi guardando meglio ci si accorge che no ma c'è questo bianco nero e questo appunto sagome degli uni rese dalla sagoma dell'altro questo è proprio voluto questa idea che io sono perché ci sei tu cioè proprio dello stare insieme gli uni con gli altri ed è un principio costituzionale in Sudafrica che è reso in una parola intraducibile che si chiama ubuntu è un principio costituzionale quindi è scritto così è intraducibile è l'idea che la mia umanità c'è perché c'è la tua e che quindi bianchi e neri o sono insieme o non sono bianchi e neri e questo è il logo scelto nel Sudafrica post-apartheid quindi vuol dire che anche i neri oppressi hanno accettato che sotto l'albero della giustizia ci fossero anche i bianchi questo albero vuole comunicare la protezione la legge come protezione la giustizia come protezione non come giudizio non come condanna non come pena ma la giustizia come protezione torniamo a noi pensiamo a un'ingiustizia che abbiamo subito e proviamo a pensare alla giustizia nella forma della protezione e non della punizione proviamo a pensare a un'ingiustizia che abbiamo compiuto e proviamo a pensare a una giustizia che vuole proteggere tutti bianchi e neri re e vittime colpevoli e innocenti perché vedremo come dice la corte costituzionale sudafricana solo dove sono protetti anche i cattivi possiamo dire che sono protetti proprio tutti perché proteggere i deboli è facile da dire invece tenere così tanto all'idea che la legge sia protezione da applicare quella legge che protegge anche al cattivo e vuol dire proprio includere tutti quanti ecco qui in Sudafrica adesso siamo più pronti per avvicinarlo e lo incontriamo questo paese attraverso alcune sue figure significative profetiche per arrivare a parlare di questa esperienza di giustizia riparativa che loro hanno usato in risposta al crime di apartheid perché loro hanno istituito la commissione per la verità e la riconciliazione non il processo di Norimberga le quinte se ci sono già arrivate che è finito con le condanne a morte dei gerarchi nazisti morte ergastolo e reclusione a seconda delle imputazioni allora Sudafrica non so se qualcuno c'è stato paese bellissimo dal punto di vista naturalistico incredibile con una varietà di paesaggi incredibili ma soprattutto è un paese molto particolare perché è un paese dove vivono una moltitudine di persone diverse non solo bianchi e neri tra i neri ci sono un sacco di tribù diverse gli Xosa di cui fa parte Mandela che era figlio di un re Xosa gli Zulu e altri e fra loro anche queste tribù si sono fatte del male hanno avuto le loro liti le loro battaglie le loro guerre sanguinari poi ci sono i bianchi che appartengono in parte ai boeri di origine olandese che si chiamano africaner loro stessi non si chiamano boeri si chiamano africaner come mi ha detto il console generale del Sudafrica Milano di colore i bianchi boeri che sono stati i primi a pensare al sistema dell'apartheid hanno il nome dell'Africa nella loro identità africaner e parlano la lingua africans tant'è vero che finito il colonialismo non sono tornati in Olanda sono rimasti lì perché Sudafrica ha questo problema altri paesi dell'Africa non ce l'hanno hanno un sacco di altri guai ma non questa compresenza perché perché lì non sono tornati nella madre patria quella l'Africa è la loro patria anche se sono bianchi e poi ci sono i bianchi di origine inglese che fra di loro hanno fatto la guerra qualcuno in storia magari ha studiato la guerra angloboera quindi anche fra i bianchi si sono fatti del male poi ci sono i meticci quelli frutto di relazioni miste tra bianchi e neri poi ci sono gli indiani dell'India Gandhi è diventato avvocato in Sudafrica e ha lasciato un'eredità importantissima per la storia di questo paese ci sono cristiani musulmani le religioni africane tradizionali animiste ci sono i cattolici protestanti tra le tradizioni cristiane ci sono gli hindu ci sono i musulmani ci sono 11 lingue ufficiali insomma è veramente il paese arcobaleno dove ci sono tutte queste persone diverse che si sono fatte del male e che hanno un posto solo dove vivere che sentono come casa loro ciascuno sente quello casa loro casa sua allora tra i profeti c'è sicuramente Mandela che appunto alcuni mi dicevano hanno studiato alle medie forse già al liceo bello che lo conosciate quest'uomo ha conosciuto tutto lo spettro delle esperienze umane associate alla giustizia perché si è laureato in lenge è diventato avvocato un avvocato che usava la scienza giuridica per combattere l'apartheid in quanto persona che agiva contro il sistema dell'apartheid è diventato un fuorilegge è stato processato è stato condannato è stato detenuto è stato carcerato per tanti 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 anni e poi è diventato presidente del Sudafrica democratico libero premio Nobel per la pace e artefice di questo progetto di giustizia ripartiva per il Sudafrica chi ha visto Invictus ricorderà appunto la scena vera del momento in cui Mandela incontra e stringe una specie di amicizia che è anche un'alleanza politica il capitano della squadra dello sport tipico dei bianchi boeri perché lì anche lo sport era diviso qui ci sono un po' di letture poi avete comunque anche una bibliografia Mandela descrive una situazione che subito ci fa sentire l'esperienza dell'ingiustizia era un crimine passare per una porta riservata ai bianchi un crimine viaggiare su un autobus riservato ai bianchi un crimine bere dalla fontanella pubblica riservata ai bianchi ogni giorno come avvocati sentevamo e vedevamo le migliaia di umiliazioni che gli africani subivano continuamente nella vita questo lo dice nella sua autobiografia e quando lui è accusato nel processo di alto tradimento e poi verrà condannato e farà anni e anni e anni di carcere lui dice ma com'è che quasi tutti bianchi e io accusato sono l'unico nero com'è che c'è un pubblico ministero bianco un giudice bianco tutti vedono che questo non è giusto e non bisogna avere il trattato sulla giustizia per capire che questo non è giusto quindi un uomo che ha subito quelle umiliazioni che è stato giudicato da un tribunale ingiusto condannato detenuto come chiude la sua autobiografia questo è un capolavoro se noi fossimo capaci di fare un briciolo di quello che c'è scritto qui lui dice in tutti gli anni in cui ero in carcere ho maturato una convenzione quando ero piccolo io credevo di essere libero perché scorrazzavo la savana andavo dove volevo credevo di essere libero poi mi sono reso conto che non era vero che il mio popolo era oppresso poi mi sono resa conto che tutto Sudafrica era oppresso perché l'oppressore era schiavo quanto l'oppresso perché chi priva gli altri della libertà è prigioniero dell'odio è chiuso dietro le sbarre del pregiudizio della ristrettezza mentale l'oppressore e l'oppresso sono entrambi che non vuol dire metterli livellati come se non ci fosse la responsabilità ma è riconoscere che chi fa del male è prigioniero dell'odio sono entrambi derubati della loro umanità e da quando sono uscito dal carcere ed è quello che ha fatto il mio obiettivo è stato affrancare gli oppressi e gli oppressori provate a pensare quando qualcuno vi fa del male che in quel momento anche lui è prigioniero e va liberato perché solo se lo liberiamo e lo aiutiamo a liberarsi ritrova la sua umanità e la sua libertà Desmond Tutu è stato il presidente della commissione per la verità e la riconciliazione anche lui lo conoscete probabilmente perché per Monover per la pace ha scritto questo libro bellissimo non c'è futuro senza perdono forse non conoscete questo signore qua invece vi dice qualcosa allora si chiama Albi Zaks è un sudafricano è bianco è ebreo la sua famiglia viene dalla Lituania e anche lui diventa un avvocato è anche cittadino inglese quindi è molto più scomodo perché un attivista anti-apartheid nero è una cosa ma un attivista anti-apartheid bianco giurista megagalattico sopraffino per giunta anche cittadino di un altro paese oltre che sudafricano aveva la doppia cittadinanza era veramente una spina nel fianco oltre a essere uno che lavorava perché venissero liberati quelli che stanno nella barricata opposta anche lui diventa un fuori legge anche lui viene processato anche lui viene condannato anche lui va in carcere ma di più perché a un certo punto lo esiliano in Mozambico e i servizi segreti sudafricani decidono su un mandato dall'alto del governo di farlo fuori troppo fastidioso mettono una bomba nella sua automobile e lo fanno esplodere Albi è qui dopo l'esplosione è vivo perde un braccio perde l'uso di un occhio ha lesioni in tutto il corpo ma è vivo e diventa giudice della corte costituzionale del sud africa post apartheid non ha mai voluto la protesi al braccio e perché non l'ha mai voluta perché mentre era in ospedale sono venuti quelli del braccio armato della lotta contro l'apartheid e gli hanno detto adesso ti vendichiamo adesso gli facciamo vedere noi adesso facciamo noi l'attentato e Albi cosa ha detto eh no cosa vogliamo fare proprio veramente occhio per occhio braccio per braccio cosa me ne faccio io di un sud africa in cui ci saranno altri come me senza un braccio senza un altro che io perché gli farete esplodere l'automobile la mia vendetta tra virgolette morbida dolce suave sarà quando in sud africa ci saranno i diritti per tutti quindi lui ha chiesto di non agire occhio per occhio dente per dente per questo non vuole la protesi al braccio e questo uomo è diventato l'estensore della corte costituzionale provvisoria noi l'abbiamo avuto in università cattolica qui vi ho messo il link se volete vedere il dialogo tra lui e Pumbla che era una dei membri della commissione sudafricana una psicologa se volete ascoltare il loro dialogo interessantissimo in cui lui spiega direttamente cosa è questa vendetta soffice per lui allora cosa poteva fare in sud africa dopo l'apartheid e qui mi avvio alla conclusione sì ci sono ancora cinque minuti allora sud africa aveva di fronte la strada tipica della giustizia della separazione e del colpo restituito adesso vincono i neri e la fanno pagare i bianchi giusto adesso li mettiamo noi in carcere li condanniamo noi li processiamo noi usiamo noi la pena di morte e però si sono accorti che quelle lì non sarebbe stata una vittoria sull'apartheid perché senza mettere sullo stesso piano la tortura dell'oppositore politico all'esecuzione di una pena a seguito di un crimine contro l'umanità qual è l'apartheid però loro si sono resi conto che contro la violenza dell'apartheid per vincere l'apartheid ci voleva la non violenza capite? cioè è interessantissimo cioè rendersi conto che restituire il colpo era fare la stessa cosa a parte invertite allora loro hanno scelto di fare una giustizia che parlasse dell'opposto dell'apartheid cosa vuol dire apartheid? qualcuno lo sa è un termine africans in lingua africans quindi quello dei boeri esatto vuol dire separazione segregazione quindi la giustizia della separazione non sarebbe stata la giustizia giusta contro l'apartheid ci voleva la giustizia della riunione e loro hanno istituito la commissione per la verità la riconciliazione questi sono proprio la locandina ufficiale la verità fa male ma silenzio uccide alziamoci parliamoci gli uni gli altri perché solo così possiamo camminare insieme la via della riconciliazione perché la via della riconciliazione o si fa insieme o non si può fare hanno istituito una corte una costituzione hanno scritto una costituzione provvisoria nel 93 Mandela viene eletto nel 94 a scrivere quella costituzione provvisoria c'è anche albisax senza un braccio senza un occhio e dentro la costituzione provvisoria c'è un capitolo fondamentale unità nazionale riconciliazione unità nazionale vuol dire opposto dell'apartheid qui in questa costituzione loro vietano la vendetta e scelgono e scelgono la via dell'ubuntu del vivere insieme sotto l'albero tutti bianchi e neri aggressori e vittime oppressi oppressori tutti da liberare e poi sulla base di questa costituzione viene approvata una legge costituzionale nel 95 sulla promozione dell'unità nazionale e della riconciliazione vedete di nuovo questo tema dell'unità l'idea vedete di superare le divisioni l'odio la paura la colpa e la vendetta quella è l'eredità da cambiare c'è bisogno di comprensione non di vendetta di riparazione non di ritorsione di ubuntu non di vittimizzazione la cosa bellissima è che questo non lo diceva uno che era andato lì dalle Nazioni Unite dal pulpito l'esperto internazionale che andava lì e gli dice adesso riconciliatevi lo dicevano quelli senza un braccio senza un occhio quelli che avevano 27 anni di carcere filati come Mandela cioè chi chiede understanding reparation ubuntu è il popolo sudafricano fatto di vittime di milioni di vittime e di perpetratori quindi ha una forza simbolica pazzesca perché non è uno che predica ma non razzola qui sono persone che hanno subito la violenza estrema e che invece di dire adesso te la restituisco questa violenza dicono no ubuntu comprensione riparazione perché solo così possiamo superare le divisioni e quindi una società come dice sempre qui la costituzione provvisoria profondamente divisa ha bisogno di ponti non di muri loro lo scrivono nel 93 historic bridge un ponte per superare il passato di una società molto divisa in modo da avere un futuro diverso non uguale con i colori invertiti diverso cioè un futuro dove c'è l'albero sotto il quale possono stare vittime e colpevoli aggressori aggrediti tutti liberati bianchi e neri perché i diritti umani valgono per tutti vedete l'unità e il benessere di tutti i sudafricani allora non hanno costituito questa commissione come funzionava funzionava con tre comitati per l'accertamento delle gravi violazioni dei diritti umani per la concessione dell'amnistia e per la riparazione delle vittime e l'amnistia cioè l'assenza di pena veniva concessa individualmente a chi tra i perpetratori avesse fatto piena trasparenza sui fatti rilevanti commessi tra il 60 al 94 con una motivazione politica davanti alle vittime e alla comunità cioè la verità al posto della pena se voi vi ho lasciato il sito della televisione sudafricana c'era erano trasmesse a reti unificate le sedute della commissione che ha lavorato tra il 96 e il 2002 hanno ascoltato 21.000 vittime e hanno avuto più di 7.000 domande di amnistia ne hanno concessi un po' meno di 1.000 per il fatto che quegli altri non avevano una motivazione politica se erano dei criminali comuni non potevano partecipare a questo percorso che era di riconciliazione nazionale dopo l'apartheid e queste sedute della commissione venivano trasmesse a reti unificate sul sito della televisione sudafricana ancora oggi ci sono le puntate di questo TRC special report il telegiornale della commissione quindi se volete vedere come funzionava potete andare a vederlo e vedrete vittime che raccontano che cosa gli è capitato in presenza dei perpetratori e i perpetratori che raccontano per esempio dove hanno sepolto i figli delle mamme che hanno sedute lì davanti tra l'altro questa sala assomiglia tantissimo alla sala dell'apertura a Cape Town dei lavori della commissione molto simile a questa quindi immaginate una sala gremita di vittime di un popolo ferito da queste divisioni che si incontra per parlare del proprio passato difficile e chiudo citando una delle sentenze più belle mai pronunciate da un'autorità giudiziaria un'autorità giudiziaria che è la corte costituzionale con il simbolo dell'albero nella quale sedeva adesso è andato in pensione albisax senza un braccio senza un occhio nel 1995 la costituzione provvisoria del 93 Mandela viene eletto nel 94 nel 95 viene istituita la TRC in quello stesso anno quando cioè incominciava tutto l'iter giudiziario sull'apartheid aboliscono la pena di morte e la aboliscono sulla base del presupposto che solo se c'è la volontà di proteggere i peggiori e i più deboli fra noi solo se c'è questa volontà che possiamo essere sicuri che i diritti di tutti saranno rispettati è molto bello questa idea di non usare la pena di morte perché solo così possiamo proprio dire che proteggiamo tutto lo spettro degli esseri umani tutto il ventaglio delle situazioni umane dal più debole dal bambino vulnerabile fino al torturatore perché solo tra l'altro la sentenza se avete tempo di leggere si trova su internet è bellissima bellissima e si dice il modo migliore per dire a un assassino che ha sbagliato è tutelare la sua vita perché se lo uccidiamo come facciamo a dire che ha sbagliato lui a offendere la vita degli altri quindi è questa coerenza profetica il Sudafrica non è un paese che ha risolto i suoi problemi un paese molto violento un paese difficile un paese dove ci sono per esempio tante rivolte dei giovani universitari perché ci sono ancora tante differenze economiche però è un paese dove la questione razziale razzista si è veramente spenta e dove le persone possono vivere insieme senza farsi quel male che chiamiamo giustizia e che è quel colpo restituito nel nome di una colpa prima che attribuiamo all'altro grazie